dai rami lascialo rami fa giocare a tutti i rami dai rami ma non è possibile così rami vai rami vai in braccio ecco guarda manco glielo faceva vedere ha mancato così tanto la plastica e non si muove più manco la palla asso asso che cos'è asso doris si è messa là ma ce l'avete per vizio cos'è ceti e cetina cos'è la pallina che si muove amore formi formi l'ha visto dai doris cacciati da là sopra ok Tania, usa altri metodi. Ma che brava Tania sulla ruota.